Daniele Bossari Daniele Bossari, mai più in gara in un reality! Ecco che Isola dei Famosi sarà Daniele Bossari, neo-opinionista dellIsola dei Famosi 13, si racconta alla vigilia della prima puntata del reality show di Canale 5. Daniele Bossari, ecco che Isola dei Famosi sarà. Che Isola dei Famosi sarà? Per Bossari, intervistato dal Libero, non mancheranno le sorprese, il cast in sé è formato per creare dinamiche esplosive. Nasceranno delle passioni, cè tanta voglia di rivalsa per alcuni personaggi, per altri cè voglia di affermazione. E questo scatena dei meccanismi interiori nei singoli concorrenti che sono imprevedibili. Ce li godremo strada facendo, sottolinea il vincitore del GF VIP 2. Daniele Bossari, Isola dei Famosi come concorrente? Non ci riuscirei più dopo il GF VIP. . Bossari avrebbe accettato il ruolo di inviato, poi assegnato a Stefano De Martino, ma ora ho voglia di stare a casa in tranquillità. . Anche se è passato più di un mese dalla fine dellesperienza nella casa, ne porto ancora i segni mentali e la fatica. . E non andrebbe allisola come concorrente, dopo aver passato il grande fratello con tutto il travaglio mio interiore, con le difficoltà che ho dovuto vincere e le insicurezze che ho abbandonato, mi ritrovo in una fase della vita in cui mi domando perché dovrei ancora una volta andare a infilarmi in quelle situazioni lì. . Neanche in coppia con Filippa Lagerbach? Non riuscirei ad affrontare un reality. . Ho la fortuna di aver fatto unesperienza così bella, forte e importante e, tra laltro, da vincitore, sono a posto. . Buona la prima, adesso intraprenderò nuove esperienze. . Daniele Bossari, Mara Veniet è vulcanica, io razionalizzerò i comportamenti dei naufraghi. . Ecco le differenze tra Bossari e laltra opinionista, Mara Veniet, lei è vulcanica, ha questo impeto che nasce dal cuore, dettato dalle fiammate che vengono dalla passione e dal suo essere indomabile, che è il suo fascino. . Io invece cercherò di razionalizzare un po' di più i comportamenti dei naufraghi, di capirli, di comprendere crisi, conflitti, euforie. . Insomma, Mara ed io saremo cuore e cervello. . .